Non poteva esordire con un tema più attuale, Pordenone pensa. La rassegna di idee promossa da Circolo Eurek e Provincia di Pordenone, giunta alla sua sesta edizione, che nello splendido scenario di Palazzo Tadea a Spilimbergo ha avuto come suo primo gradito ospite il professor Paolo Savona, economista di fama internazionale, già ministro dell'industria nel governo Ciampi. Savona si è intrattenuto con il pubblico, analizzando in particolare le possibili evoluzioni delle politiche economiche europee a poche ore dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Politiche economiche che potrebbero cambiare direzione, condizionate da un Parlamento europeo in cui sarà presente anche una pottuglia di deputati euroscettici. Per la prima volta l'Italia ha contribuito in termini di riequilibrio degli euroscettici, perché abbiamo mandato una rappresentanza più favorevole all'Europa. Sottolineato questo piccolissimo contributo dell'Italia, aggiungo che certamente è maturata la coscienza che le istituzioni europee e la politica, che sono due cose diverse parimenti importanti, come funziona la Banca Centrale Europea, come funziona il Parlamento e come funziona la Commissione di Bruxelles, che dovrebbe essere e non è il governo dell'Europa e dell'economia europea. C'è questa coscienza che queste istituzioni vadano riformate, diventino più democratiche e siano in condizioni di condurre politiche diverse, che non sono solo le politiche della stabilità e dell'austerità, ma anche la politica dello sviluppo, perché la gente, soprattutto chi non ha il lavoro, ci chiede il lavoro e la gente non vuole tornare indietro nel suo livello di benessere e quindi chiede a queste forze una risposta. Pordenone Pensa proseguirà fino all'11 giugno in diversi comuni del Friuli Occidentale. Tutti gli appuntamenti sono consultabili su www.pordenonepensa.it.